Musica Ciao a tutti amici di Sportint, sono qui oggi con my best friend, il mio amico, Manichino che ha indosso una vera e propria rivoluzione per gli impermeabili infatti si tratta di un impermeabile con anche pantalone che diventa salopette eventualmente impermeabile, questo qui è un materiale di ultima generazione perché lo usiamo anche nelle nostre tende si chiama Aquasense Hydra e si adatta a ogni condizione climatica quindi oltre ad essere antipioggia, antivento e anche comunque leggermente termico perché adattandosi appunto alle condizioni climatiche esteticamente è eccezionale ed è completamente fatto in Inghilterra dalla scelta di ogni singolo materiale alla fabbricazione costicchia un po' ma c'è anche il perché si comprano una volta sola e stop questo è Jacket e questo qua sotto è Trosers della linea Nash Scope Ciao 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 Ciao